Ma io delle novità mi aspetto la crescita della squadra, la squadra siamo oggi in 22. Bisogna lavorare, poi lavorando bisogna scoprire che cosa va e che cosa non va. Attualmente, ripeto, per me è un problema di applicazione di aggressività in fase difensiva, perché poi in fase offensiva qualche cosa la facciamo sempre. Vabbè, voi date sempre Brugman per regista, ho detto che l'anno scorso l'ha fatto a fine campionato in Serie A per esigenze. Per me non può fare regista nel senso che non mantiene posizione, a lui ci piace. È un giocatore offensiva e ci piace attaccare. Da registi di solito che attaccano poi lasciano scoperto qualcosa. Cioè, lei lo vorrebbe sempre vicino a Proietta? Lui è uno che piace, tecnicamente è bravo, si distingue per eleganza sul campo e quindi si pensa che può fare tutto. Ma una squadra non è fatta solo su eleganza e su tecnica. Vabbè, su Canute parla la storia. Lui è venuto qua, hanno fatto provino con Koulibaly. Come Canute è più tecnico, sa stoppare la palla, sa giocare la palla. È passato provino, Canute è no Koulibaly. Quindi differenza è più sul piano tecnico che sul piano fisico. Koulibaly però è uno che ha giocato con noi l'anno scorso, ha giocato, quindi sa in questo momento più di Canute è come ci si deve comportare. A mio parere, poi di solito si fa la formazione su quello che si è provato e penso che Bollini ha fatto sempre 4-3-3 anche l'anno scorso. Cambiare all'improvviso o lo fa per gli avversari, cioè noi, nel senso che cercherà di chiudere più esterni o se se la gioca come è abituale. Un'unione sullo dito? Vabbè io non dico che ha idee diverse dalla mia. Penso che con la Lazio ha dimostrato che, come dice lui, si può fare calcio. Sento che dopo Cragnoti c'erano grosse difficoltà, lui si è messo a posto.